Usa solamente un dentifricio da 89 centesimi e il risultato ti sorprenderà. Benvenuta sul canale, prima di iniziare iscriviti al canale per avere il tuo video personalizzato, lascia un commentino qui sotto e fammi sapere da che provincia stai guardando e di che video hai bisogno. Allora, iniziamo subito con questo video, perché ho scoperto un dentifricio da 89 centesimi che mi sta piacendo parecchio, che è questo qua della collo dente, che avevo già mostrato anche in altri video. Questo dentifricio è un dentifricio da discount, che però è prodotto da Colgate, Colgate Colgate, c'è scritto qui, non so se ora riuscirete a vederlo, però c'è scritto. Eccolo qua. E quindi secondo me merita di essere conosciuto, perché a me sta piacendo tanto, lascia una buona profumazione in bocca. L'ho utilizzato con lo spazzolino e un elettrico che mi ha consigliato il mio dentista e l'ho utilizzato anche con lo spazzolino elettrico e ho utilizzato anche prima un rilevatore di placca per vedere se andava a pulire bene oppure no. E devo dire che a parte un punto che, avendo i denti storti, avevo leggermente saltato, tutto era pulito alla perfezione. Quindi posso dire che questo dentifricio, per quello che sono i miei denti, la mia situazione, sapete che non tutti abbiamo, tra virgolette, la stessa situazione in bocca, è l'ideale per me. E quindi vi faccio vedere anche che lavo i denti con Colodent. Il filo interdentale che uso è questo qua, che è di Geldis, che appunto mi è stato consigliato, in realtà è stato consigliato a mia sorella, perché aiuta a passare bene nei denti, però non va a tagliare le gengive perché al massimo si spezza il filo. E invece della stessa marca, il colluttorio che uso, è questo qua, che è di Innova Sensitive, che si trova sempre sul sito dove ho comprato questo, e appunto è questo qui. Molto carino, mi piace molto. Tra l'altro anche per i vegani, se vi interessa. Ed è questo qua, anche per lo smalto.